Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. La ex ministra Mara Carfagna si è sposata con l'avvocato romano Alessandro Ruben in una cerimonia top secret presso Villa Zagara a Sorrento il 27 giugno. La location esclusiva ha fatto da sfondo a un evento elegante e riservato, con alcune immagini svelate da Dago Spia che ci permettono di dare uno sguardo ai momenti salienti della giornata. Questo è il secondo matrimonio per Mara Carfagna, che era precedentemente sposata con Marco Mezzaroma. Nel 2015 ha incontrato Alessandro Ruben, con il quale ha costruito una nuova vita, culminata nel matrimonio di ieri. Il matrimonio ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco, tra cui ministri ed ex ministri. Le foto pubblicate da Dago Spia catturano l'atmosfera rilassata dell'evento, rivelando il clima sereno che ha caratterizzato la giornata. In conclusione, le nozze tra Mara Carfagna e Alessandro Ruben sono state un evento intimo e raffinato, celebrato in una delle location più gestie campania, circondati dall'affetto di amici e parenti. Un matrimonio che ha segnato l'inizio di una nuova avventura. Grazie a tutti.